musica 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 allora la spirale che mi ha messo la spirale non le sembra perché sia un po' troppo lungo ah ecco perché è saltellato e si forse abbiamo sbagliato forse un po' troppo bisogna accorciarla si stende sul letto così adesso facciamo subito questa cosa si 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 stende veramente fate mettere i guanti così subito operiamo vengo subito Silvio si rilassi amico musica 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 musica